ciao ragazzi e ragazzi bentornati nel canale e oggi vi porto un fae scopa doppia sfida tutto e per tutto è una battaglia navale allora vediamo un attimino di cominciare allora iniziamo con fai scopa ok sta benissimo così allora le carte sul tavolo sono 7 asso quindi è un 10 7 1 8 e 2 10 allora dobbiamo trovare un 10 7 poi abbiamo un 8 4 abbiamo un asso segue un 2 poi abbiamo un 5 continuiamo con la giocata 39 poi abbiamo un 7 un 6 un 3 un 9 e infine un 5 ragazzi questo biglietto è perdente allora proseguiamo scusate con il mio doppia sfida e vediamo i numeri vincenti 16 questa moneta gratta poco comunque 42 18 e 22 ok vediamo 37 niente 17 niente c'è 16 e 18 il 41 c'è 42 31 poi c'è il 13 il 27 44 e infine il 14 niente ragazzi vediamo con gli importi vediamo se riusciamo a trovare tre importi uguali 20 euro 15 euro 100 euro 100 euro 100 euro 100 mila euro 500 euro 500 euro 500 euro niente e 500 euro ragazzi anche questo biglietto è perdente allora vediamo adesso con il tutto e per tutto ok allora 44 34 34 30 24 e 45 allora speriamo un attimino iniziamo la prima colonna 28 28 non c'è poi abbiamo 23 e c'è 24 37 niente 21 niente seconda colonna 40 niente 35 e c'è 34 43 43 non c'è 44 45 46 45 sempre beffa 19 non c'è 15 niente 11 non c'è ultimo numero 12 ragazzi anche questo biglietto è perdente ma lo vediamo con la battaglia navale adesso allora un attimino che allarghiamo l'inquadratura ok allora iniziamo subito f2 presente poi abbiamo b2 pezzetto colpito f7 acqua poi abbiamo b1 abbiamo preso una bacchetta sì ok almeno questo che vincente proseguiamo con h5 h5 eccolo qui abbiamo un pezzo di barca c2 c2 colpito h3 h3 colpito f4 f4 eccolo qua hanno scusate questo il acqua vabbè tanto faccio lo ricordiamo in caso di 4 di 4 1 2 3 4 eccolo qua un pezzo infine e 3 1 2 3 niente niente perché questo qui non c'era se non era f3 non c'è no f2 allora aspettate un attimo non c'era le f3 si f3 non c'era quindi praticamente ho preso solo questa comunque dopo di controllo vabbè ho preso solo la barchetta ok perché 1 2 3 l f3 non ce l'abbiamo f4 si ma f3 no allora vediamo un attimino la barchetta piccolina quanto ci porta sicuramente 5 euro però vabbè 5 euro ragazzi ma almeno il biglietto non è perdente ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto anche se gli altri biglietti sono sono perdenti ma non è colpa mia purtroppo la fortuna e niente ragazzi quindi io vi saluto vi do un abbraccio e un bacio se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale ragazzi alla prossima ciao ciao